buongiorno a tutti allora prosegue il tour de force del gigione con il video numero 4 delle schedine bollettine campionato tedesco tenendo conto che arminia bilif e il bosbo stanno giocando adesso è finito il primo anzi c'è il secondo tempo sta vincendo 2 a 0 il bosbo così sapete più o meno che ora è siamo le 10 meno un quarto giù di lì comunque proseguiamo poi farò anche il campionato spagno francese e manca poi anche quello che è già pronto comunque quasi comunque partiamo con le partite di sabato abbiamo un bel borussia monce blabbach mainz 1 friburgo union berlino partita da aiuto 12 a entra francoforte bayern monaco 2 anche se ripeto una sfida diretta perché l'eintracht è lì lì è lì nelle primissime posizioni ma sappiamo benissimo che il bayern monaco quando qualcuno prova a sormontarlo gli rifila 4 per è successo anche col borussia dormon nella sfida a scudetto il bayern monaco stravinse nettamente a dormon colonia stoccard l'altra partita da aiuto 12 schalke 04 borussia dormon 2 perché credo che il dormon col derelitto schalke non avrà alcuna pietà ausburg bayern leverkusen 2 partita di domenica ertha berlino olipsia 2 e offena in verder brema 1x veniamo alla bollettina alternativa schedina che dico bollettina schedina alternativa borussia monce blabbach mainz over due e mezzo friburgo union berlino over uno e mezzo aintra francoforte bayern monaco gol colonia stoccard over uno e mezzo schalke 04 borussia dormon over due e mezzo alan si è risvegliato l'ho visto bello carico in champions quindi attenzione spero che non torni a fare il dormiglione in campionato e sveglio in champions ausburg bayern leverkusen over uno e mezzo ertha berlino olipsia gol a mio rischio e pericolo e offena in verder brema over uno e mezzo preferisco stare schiscio anche se l'offena in in coppa ha fatto un 3 a 3 roccambolesco col molde quindi attenzione detto questo andiamo a vedere le mie bollettine o bollette perché poi mi chiedete cosa sono le bollettine sono le bollette che mi piace chiamare in maniera simpatica allora anche qui ho scelto pratica 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 due partite di sabato e due di domenica aintra bayern monaco due borussia monce blabbach mainz uno ausburg bayern leverkusen due ertha berlino lipsia due con cinque euro se ne vincono 40 virgola 46 con la cifra fa libidine se volete metterci qualche doppia qua e là abbassare un attimino la quota per avere più chance di vittoria e a vostra discrezione ve lo dico sempre bollettina numero due aintra bayern monaco multigol ospite due quattro un po a rischiatella però ci proviamo borussia monce blabbach mainz multigol casa due e quattro ausburg bayern leverkusen multigol ospite 1 3 perché l'ausburg comunque non credo che si farà massacrare è la tredicesima contro la quinta se non ricordo male quindi non è proprio nei bassi fondi della classifica il leverkusen è il leverkusen comunque vedremo però preferisco stare schiscio ertha berlino lipsia invece multigol ospite due quattro anche questo un po a rischiatella però tentare non nuoce con cinque euro se ne vincono 29 virgola 28 naturalmente come vi dico sempre vedete voi gestite voi decidete voi io vi do la base e poi dopo dalla base voi potete creare tutto quello che volete terza bollettina aintra bayern monaco is due piove borussia monce blabbach mainz 1x piove ausburg bayern leverkusen x2 piove ertha berlino lipsia is due piove con cinque euro se ne vincono 18 virgola 25 naturalmente ci sono le due opzioni allora opzione numero uno borussia monce blabbach mainz 1x piove eintracht francoforte bayern monaco is due piove ertha berlino lipsia is due piove con cinque euro se ne vincono 24 virgola 77 opzione numero due eintracht francoforte bayern monaco is due piove borussia monce blabbach mainz 1x piove ausburg bayern leverkusen 2 piove e ertha berlino lipsia is due piove con cinque euro se ne vincono 33 virgola 24 così vi ho dato le tre opzioni quindi la prima opzione è la fissa su borussia monce blabbach mainz 1 piove e la seconda è sia borussia monce blabbach mainz 1 piove che ausburg bayern leverkusen 2 piove lasciando invariata le due doppie chance delle altre due partite come faccio di solito solo con il campionato italiano ho voluto fare questa cosa particolare dell'over 2 e mezzo di benevento roma veniamo alla quarta bollettina che me fa libidine eintracht bayern monaco gol casa borussia monce blabbach mainz gol ospite ausburg bayern leverkusen gol casa ertha berlino lipsia gol casa con cinque euro se ne vincono 17 virgola 11 quinta bollettina stavolta me tocca e me tocca e purtroppo me tocca devo fare le imitazioni le imitazioni direi che abbattantuono sì 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 abbattantuono quindi eintracht bayern monaco gol piove pibacco borussia monce blabbach mainz gol piove pibacco ausburg bayern leverkusen gol piove pibacchissimo e ertha berlino lipsia gol piove pibacco avrete già capito che i quattro gol piove di queste partite sono stra favoriti infatti con cinque euro se ne vincono solo 59,30 quindi neanche dodici volte la posta e quattro gol piove è tanta roba quindi vedete voi le possibilità ci sono le quote sono interessanti e il rischio una volta tanto può valere la candela magari se non siete convinti due euro alla fine della fiera vi portate a casa con due euro 24 euro quasi non fanno mica schifo veniamo alla sesta bollettina eintracht bayern monaco due più gol borussia monce blabbach mainz uno più gol hausburg bayern leverkusen due più gol ertha berlino lipsia due più gol con due euro se ne vincono 158,68 con 5 euro 396,70 però eintracht bayern monaco il due più gol è favorito questa abbastanza una partita tra virgolette scontata che regalerà gol borussia monce blabbach mainz l'uno più gol è perfettamente alla pari con l'uno più no gol e paga anche piuttosto bene però sono alla pari quindi lo lascerò invariato uno più gol hausburg bayern leverkusen il due più gol non è favorito ma c'è una differenza di 0,30 0,30 0,35 a favore del no gol quindi siamo molto molto vicini e infine erta berlino lipsia il due più gol non è favorito e c'è una differenza di 0,50 a favore del due più no gol indi per cui bollettina alternativa aintracht bayern monaco due più gol lo lasciamo invariato borussia monce blabbach mainz uno più gol o uno più no gol questo è a vostra discrezione perché sono pari e quindi chi che vi dica uno più gol che vi dica uno più no gol la quota non cambia resta uguale quindi io lascio l'uno più gol hausburg bayern leverkusen vado di due più no gol e infine erta berlino lipsia vado di due più no gol in questo caso con due euro se ne vincono 121,52 con 5 euro 303,80 come potete vedere la differenza è minima perché no vabbè c'è sono 37 euro con 2 euro di differenza e con 5 euro c'è la bellezza di quasi 100 euro di differenza quindi c'è tenetene conto tenete conto che gol piover sono favoriti quindi ci sono buone chance anche che escano i gol utilizzando la fissa più il gol se volete non siete convinti eccetera andate di over due e mezzo uno e mezzo vedete voi come vi viene io vi ho dato le opzioni poi dopo tra voi creare quello che vi fa più libidine e farvi la bolletta su misura detto questo vi saluto vi ringrazio vado a preparare il campionato francese intanto sclero con wolverenton che come al solito deve fare la partita da 0 a 0 1 a 0 come sempre spero di sbagliarmi magari segneranno quattro gol nella ripresa ora che vedrete questo video il risultato si saprà già ci diamo la prossima ciao ciao ciao